Le amiche e gli amici del Centro Asteria di Milano mi hanno chiesto di inviare delle poesie, una piccola selezione di poesie. Parto da questa che per me ha un titolo molto significativo In attesa che passi la paura e torni il buonsenso. L'autore è Paolo Mario Buttiglieri. Continuiamo a pensare che il nemico è fuori di noi e non riusciamo a capire che così avremo sempre un nemico da combattere. In realtà il nemico è dentro ognuno di noi, nascosto nella nostra mente. E da lì, come un cecchino, abbatte tutti i nostri propositi, invisibile ma efficace, mentre noi brancoliamo nel buio dando la colpa ad altre vittime del cecchino. Forse un giorno alzeremo gli occhi al cielo e ci guarderemo allo specchio e finalmente vedremo chi ci fa tanto soffrire e ringrazieremo lo specchio e inizieremo a conoscerci al di là dell'apparenza. Grazie. 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 Grazie.